Ciao a tutti, benvenuti a questo secondo video sulla scrittura creativa. Oggi parleremo di come impostare una storia. Cominciamo a mettere nero su bianco quelli che sono i protagonisti della storia. Facciamone una buona descrizione, non solo fisica, ma anche esperienziale, anche caratteriale. Questo è molto importante perché il lettore deve configurarsi nella mente quella precisa persona. Passiamo poi all'antagonista o agli antagonisti. Anche qui faremo una descrizione precisa. Quindi mettiamo al centro del foglio le problematiche che il protagonista dovrà affrontare, che possono essere delle problematiche non dovute alla sua vita o anche delle problematiche create dall'antagonista o dagli antagonisti. Avremo così un picco della storia che vedrà il protagonista risolvere le problematiche, si attesterà sul climax, il momento di maggiore impegno del protagonista e poi ci sarà una discesa in cui la storia ritornerà all'opzione precedente, poi il protagonista sarà in qualche modo quindi cambiato. Questo è molto importante seguire questo tipo di schema perché l'approccio alla storia sarà molto più facile e soprattutto per il lettore verrà molto più comoda immedesimarsi nei panni del protagonista. Per oggi è tutto, alla prossima, ciao!